Let's Marche in Italy, of course. Questo il nuovo slogan che accompagnerà la regione Marche in tutte le sue attività di promozione turistica, estiva e non, in Italia e all'estero. Uno slogan a supporto di una serie di spot per la regione Marche che hanno confermato lo iesino Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana, come testimonia d'eccezione. Un felice rapporto che si rinnova per altri due anni con Mr. Mancini, volto di una serie di spot presentati in anteprima Roma nella sede dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo. La Marche è una di quelle poche regioni italiane che ti dà la possibilità di avere tutto, dal mare alla montagna, alla collina, alla campagna, al cibo, alle persone per beni, quindi qualsiasi cosa. Per rappresentare la propria regione credo che sia motivo di orgoglio, poi il fatto che comunque in questi anni le cose sono migliorate, sono andate benissimo, stanno migliorando perché poi credo che la regione meriti tutto questo e che possa avere un grande successo ancora migliore di oggi in futuro. Stiamo provando a potenziare una campagna pubblicitaria e soprattutto la possibilità di acquistare, conferire, conquistare il termine esatto, fette di mercato all'estero e lo stiamo facendo con il nostro testimonial, con un grande lavoro fatto sui marchio e sul brand che credo possano essere strumenti importanti per raggiungere questo obiettivo. La stagione è partita con un po' di problematiche a livello comunicativo perché è passata molto a un certo punto il fatto che la nostra stagione fosse stata fortemente colpita dal maltempo e ha limitato e danneggiato un po' addirittura con delle risdette nel settore alberghiero e turistico. Dall'altra parte anche la stagione che è stentato a partire dal punto di vista meteorologico, però i numeri erano molto positivi fino alla primavera quindi contiamo di provare almeno a pareggiare quello che è successo lo scorso anno e magari provare a migliorarlo. Les Marche, in Italy of course.